Mattia stiamo uscendo? Sì! Di nuovo dove andiamo? Alle giostre! Alla giostre! Andiamo? Si! Si va? Si! Apri la porta! Apri la porta! Oh oh! Non è così! Ah ma è chiusa questa porta! È chiusissima questa porta! Non si apre! Non si apre! Siamo rimasti chiusi dentro casa! Eccoci! Andiamo dai! Iniziamo ad andare! Noi! Tu tu! Amore! Siamo arrivati? Sì! Ah! Le giostre? Sì! Andiamo? Devi togliere la giacca? Sì! E ora la togliamo quando scendiamo? Dai! Toglita la mamma! Ce la fai uscire da solo? No! Eita! Siamo pronti? Sì! Tutti quanti? Sì! Papà sei pronto? Sì! Papà di là! Di là! Di là! Di là! Di là! Tieni papà! Andiamo Mattia! Mattia! Si è entrata di là! Andiamo amore! Su! Dai la mano papà! Sì! Ehi! Ci va! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.